Ve lo ripeterò fino alla morte, l'artista non c'entra assolutamente niente. Il problema è stato vendere l'artista ad un prezzo che costringesse i gestori. Il problema è stato mio che non mi sono espresso bene, non lo so, però mi sembra che ci sia tanta malizia in questo caso. Per fare sensazionalismo, un argomento su cui non si dovrebbe fare. Ve lo ripeterò fino alla morte, l'artista non c'entra assolutamente niente. Il problema è stato vendere l'artista ad un prezzo che costringesse i gestori del locale ad imballare il posto per poter recuperare le spese. Ed è questo che bisogna fare per evitare tragedie del genere. Non avete idea di quanto mi sta su *** rispondere su queste cose qua, cari amici ***? È vero, io ho suonato alla Lanterna Azzurra come tanti altri artisti, ma con casce diversi che non costringevano gli organizzatori a riempire a tappo il posto, soprattutto facendo sopralluoghi prima e anni fa la capienza del locale era ben diversa. E soprattutto non è questo il tema su cui costruire gossip da 4000 lire. Spiegate come si possono evitare scenari del genere. E continuo a dirlo, l'artista non ha nessuna responsabilità su questo fatto, a mio modestissimo parere. A mio parere, per evitare tragedie del genere, bisognerebbe far sì che i cachet degli artisti rispettino le capienze dei locali. Bisogna far sì che lo staff dell'artista faccia dei sopralluoghi prima, perché le gestioni delle discoteche locali molto spesso non sono attrezzate e professionali a tal punto. Grazie. 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 Grazie.